Fuori i secondi, potrebbe essere sintetizzata così la sfida tra Real Podgore e Città di Latina Oratorio squadre che inseguono l'ormai inarrivabile Calcio Sezzi avanti di 12 lunghezza hanno infatti gli stessi punti con l'unica differenza che però il Città di Latina Oratorio ha una gara in meno rispetto alla formazione borghigiana è iniziato dunque questo match Damiani che serve il proprio compagno, arriva alla conclusione, due volte Poi arriva questa percussione, conclusione molto bella che viene nuovamente parata da Bonfatti e poi arriva Coronato che sigilla il gol del vantaggio per il Città di Latina Oratorio Contropiede, c'è Corbi tutto solo, prova Corbi la conclusione è ancora un errore e c'è ancora questa nuova conclusione da parte di Cristian Pardo l'azione che non si è ancora conclusa che ha il problema di Girasi, splendido colpo di tacco, il gol di Coronato che dunque realizza la sua doppietta in questa partita importantissima e c'è questa conclusione che viene poi 1-2 adesso con Genovesi Genovesi arma il destro, Genovesi colpisce il palo Altobello, non ci sono spazi per il Pugora che adesso ci prova con questa conclusione prova molto alto e su questa conclusione finisce dunque il primo tempo un primo tempo che ha visto il Città di Latina riprende dunque il match con la squadra del Città di Latina Oratorio avanti di due gol grazie alla doppietta realizzata da Coronato e comincia subito benissimo la squadra ospite con questa azione c'è Montalto, intanto se ne va sulla destra Montalto che scarica di prima intenzione arriva invece alla conclusione viene parata proprio dallo stesso Lopinto Pardo tiro da parte di Pardo e il gol è incredibile conquista capricamente il pallone Montalto, prova la conclusione pallone nuovamente perso da Bacoli attenzione, uno contro uno che viene gestito nel migliore dei modi incredibile errore però da parte di Genovesi Paolucci c'è tanto il sinistro, il gol realizzato dal numero 9 Piovesan riprende dunque il gioco 3-1 per il Città di Latina Oratorio Coronato attenzione Genovesi, Genovesi scarta l'avversario Genovesi deposita sul secondo palo Rizzo arma il sinistro di Mari se ne va Paolucci intanto percussione di Paolucci la conclusione che viene deviata ancora la squadra ospite che conclude l'intervento di Mameli perdimento cartellino giallo e poi il rosso per Mameli intanto c'è il gol del 6-1 risultato dunque che a questo punto diventa pesantissimo proprio nel momento in cui l'arbitro fischia alla fine di questa partita il gol del 6-1 è stato realizzato dunque da Damiani finisce dunque 6-1 per la squadra ospite che vince questo scontro diretto sale a quota 42 punti e con una gara in meno rispetto appunto al Podgora ha dunque la possibilità di lanciarsi all'inseguimento del Calcio Sezze comunque distante grazie a tutti grazie a tutti Grazie a tutti